A fine dicembre ho lanciato un altro sondaggio nella Tab Community, che è come sempre vi ricordo di seguire perché è il modo migliore per partecipare ai futuri video sul canale, e stavolta ho chiesto di disporre le 12 armature d'oro della serie classica in ordine di bellezza, dalla più bella alla più brutta. Questo perché avevo già fatto un video in passato con la mia classifica estetica ed ero curioso di vedere la vostra. Avete risposto in tanti, 239 voti, e ecco i risultati, andiamo un pochettino a vedere qual è la vostra classifica di bellezza delle armature d'oro. E al dodicesimo e ultimo posto si è piazzata l'armatura del toro. L'armatura del povero Aldebaran ha avuto la maggior parte dei suoi voti, ben 64, per ultima posizione, e in generale, se guardiamo il grafico, è un crescendo verso il basso. Evidentemente l'armatura del toro non piace proprio. Se non era ultima, era penultima o terz'ultima, con soltanto una persona, immagino del segno del toro, che l'ha messa come sua armatura preferita. Quindi sicuramente un'armatura che ha correzionato la maggior parte dei voti per le ultime posizioni. Motivo? Presumo il fatto che sia troppo massiccia, in generale un'armatura che tende ad essere inserita in basso nelle classifiche per la sua mancanza di eleganza, anche per via di tutti quegli spuntoni che escono da tutte le parti. Ma, quale che sia la ragione, anche voi l'avete piazzata al dodicesimo e ultimo posto. A undicesimo posto, invece, avete messo l'armatura del Capricorno. Ora, Capricorno, l'armatura della decima casa, ha un grafico molto più bilanciato. È vero che ha la maggior parte dei voti, 35 per ultima posizione, però vediamo che tutto sommato ne ha avuti anche, per esempio, 23 per la quinta, oppure 26 per l'ottava. Ciò che va a trascina in basso sono i tanti voti anche per la penultima, con ben 32, e per la nona con 31. Per conto, soltanto in due l'avete messa al primo posto e soltanto in cinque al terzo posto. Curiosamente, un picco di 11 voti per il secondo posto. Sembra un'armatura che divide un pochettino il fandom, ma non abbastanza, visto che, appunto, alla fine si è classificata undicesima, con un grafico, ecco, tutto sommato bilanciato, ma che non è bastato a salvarla. Anche in questo caso, credo che siano le forme forse troppo semplici, o quel vermo chiuso, estremamente vistoso e pesante, che hanno penalizzato questa corazza. Al decimo posto è andata un'armatura da alcuni molto amata, ma non abbastanza evidentemente, c'è l'armatura dei Gemelli. Il grafico della terza casa, dell'armatura della terza casa, è, anche in questo caso, sbilanciato verso la fine, con 34 voti per l'ultimo posto, 28 per il penultimo e 29 per il terzo ultimo. Questo accumulo di quasi 80-90 voti per le ultime posizioni hanno fatto sì che i pur numerosi 18 voti per il primo posto e 20 per il secondo non siano bastati a tirare più in alto questa armatura. Questa è un'armatura che anch'io tendenzialmente metto molto in basso, anche se ci sono dei commenti di fan della corazza che invece la considerano la più bella o tale più bella. In effetti è curioso che abbia avuto più voti il primo posto del terzo, per esempio. Evidentemente, come tante cose che riguardano Saga, è una corazza abbastanza polarizzante. Per i miei gusti, copre in maniera troppo pesante. Mi piacciono le armature coprenti, ma non in maniera pesante. Quella dei gemelli un po' è. Fatto sta che i vostri voti vanno messi in decima posizione. Alla nonna posizione si è classificata invece l'armatura dei pesci. Altra armatura che a me personalmente non fa impazzire, ma che ha un numero di fan abbastanza vocali, la corazza dei pesci ha avuto soltanto 13 voti per l'ultima posizione, quindi veramente pochi, ma si è distinta anche per una quarantina di voti per l'ultimo posto e per 14 voti per il primo. Quindi una corazza che è tutto sommato come quella dei gemelli delle persone che la amano, la apprezzano, ma che non sono bastate visto questo enorme picco appunto di ben 40 voti per l'undicesima posizione. Purtroppo sembra esserci un trend finora, cioè le armature ad ermo chiuso in generale, le armature a casco, sembrano incontrare meno il riscontro del pubblico e sicuramente questa dei pesci segue questo trend. A me personalmente non piace molto perché faccio fatica a volte a riconoscere i pesci da le forme della corazza a un netto di tutte le varie pin, anche se questo è un discorso che oggettivamente si potrebbe applicare a tante altre armature dei cavoieri d'oro. Ottavo posto per l'armatura della bilancia, corazza che, al guardare il grafico, sembra posizionarsi abbastanza bene verso il centro della classifica. E in effetti, anche se in maniera un po' ironica, soltanto 11 voti, il numero più basso in assoluto, è stato dato per l'ottava posizione, ma ne ha avuti ben 32 per la settima e 29 per la nona. Quindi facendo una media di questi due estremi è finita ottava. È una corazza che si posiziona leggermente più verso la metà bassa della classifica, a casa di 26 voti nell'ultima posizione, 23 per la penultima, ma ha anche 16 voti per la prima e 18 per la seconda. Insomma, è un'armatura che divide abbastanza il fandom, presumo per via dell'utilizzo delle armi della bilancia, della loro presenza, che è comunque un qualcosa di iconico nel mondo di Sensei. A me l'armatura della bilancia personalmente piace, non è la mia preferita, ma mi piace, per tutta la simbologia drago e tigre che nasconde nelle decorazioni di cui è coperta. Un'altra armatura, sempre a casco, finisce settima, ed è l'armatura della riete, con un buffo numero molto basso di prime posizioni, solo 6, meno per esempio della bilancia, ma un numero anche basso di voti per l'ultima posizione, cioè soltanto 7. Nel mezzo, tanti voti, 35 per l'ottava, 30 per la settima, e quindi sembra effettivamente un'armatura da metà classifica. Che dire della riete? È una corazza senza infamie e senza rode. La critica che le faccio riguarda a volte le dimensioni un po' troppo voluminose, appunto, di quelle corna da riete, anche se sicuramente sono rese in maniera abbastanza elegante, specie nell'anime, e permettono di distinguere un'armatura che altrimenti sarebbe abbastanza anonima. Fatto sta che, in questo caso, l'avete posizionata al settimo posto. E sesto posto si conclude il trend dell'armatura a casco perché sesto posto per la sesta casa c'è l'armatura della Vergine. Centro perfetto delle 12 sia nello zodiaco che qui nel sondaggio, con un tot di voti in ogni posizione. Non tanti per l'ultima, non tanti per la prima, ma 29 per l'ottava e 26 per la sesta. Quindi l'armatura che si inserisce anche in questo caso abbastanza nel centro della classifica, con voti in un po' tutte le posizioni, soprattutto dalla seconda alla penultima. Secondo me, in generale, non può essere un caso che tutte le armature a casco siano finite così in basso, perché, se vogliamo, dalla dodicesima posizione fino a questa sesta, praticamente, sette armature a casco, tutti e sette nella metà bassa della classifica. Quindi credo che ci sia qualcosa nel elemento ermo chiuso che non incontra tantissimo il favore del pubblico. Personalmente mi piacciono gli ermi chiusi, soprattutto perché svolgono la loro funzione, cioè proteggono la testa, però sicuramente, da un punto di vista estetico, potrebbero togliere qualcosa. Andiamo adesso alla quinta posizione, con l'armatura del cancro, che ha avuto voti molto simili in tutte le posizioni, tranne la prima, soltanto sette voti per la prima. Se ne fossero stati un po' in più, probabilmente sarebbe finita molto più avanti, perché è un'armatura che effettivamente, nonostante 22 voti per ultima posizione, me ne ha avuti, per esempio, ben 26 per la seconda. Segno quindi che incontra il vostro favore. A me non piace tantissimo, trovo un po' pesanti alcuni elementi e un po' eccessivi altri, però evidentemente, ecco, in questo caso è un'armatura che piace tanto e quindi è finita in quinta posizione. Quarta posizione, iniziamo a sbilanciarci verso quelle armature che hanno avuto pochi voti nelle ultime, nelle parti basse del sondaggio e tanti voti nelle prime perché è l'armatura del sagittario. Ben 20 voti per il primo posto, 35 per il secondo, tirata giù soltanto un pochettino da 29 voti per il sesto e 31 per il quinto che vanno trascinate un pochino più verso la metà della classifica o comunque verso i piedi del podio. L'armatura del sagittario è iconica in senseia, è al centro della storia per praticamente metà saga e viene sempre utilizzata. Che dire, credo che sia più un merito delle prime tre che sono finite davanti che non un demerito del sagittario per essere finita qui al quarto posto. Terzo posto, un'armatura evidentemente apprezzatissima, cioè quella dello scorpione con il grosso dei suoi voti nelle prime quattro posizioni, il picco totale nel secondo con ben trentasei, soltanto in tre l'hanno messa all'ultimo posto perché in effetti si tratta di una delle armature anche secondo me più belle di senseia con elementi decorativi che ricordano l'animale, ricordano il segno senza però appesantire la corazza e anzi quella splendida coda di scorpione nel diadema che credo sia un valore davvero aggiunto di questa armatura. non è però bastato perché nonostante i trentadue volti per il primo posto ce ne erano troppi per le posizioni dalla seconda a scendere e questo l'ha tirata un po' in basso e al secondo posto scorpio è stato superato dal suo compagno di merende camio infatti è andata l'armatura dell'acquario che per la prima volta superava il traguardo dei quaranta volti per la prima posizione con ben quarantatré questi 43 voti si associano ad altri 40 per la terza e a 32 per la seconda quindi abbiamo oltre 110 voti nelle prime tre posizioni al contrario soltanto in sette l'hanno messa come armatura più brutta che sono comunque più voti rispetto a quelli avuti da scorpio un piccolo contentino ma la classifica del acquario è sicuramente sbilanciata verso le prime tre posizioni se ci fossero stati un po' meno terzi posti forse sarebbe potuta finire più in alto in questo caso però è stata completamente stracciata dall'armatura che ha vinto e si tratta di l'armatura di Iore d'Oleone la corazza d'Oleone con la bellezza di 67 voti per il primo posto un traguardo assoluto che ha strappato praticamente tutto a tutta la gara non ha lasciato niente agli inseguitori ed è finita qui così in alto trionfando in questo sondaggio soltanto un voto per l'ultimo posto 8 per l'undicesimo ma è una classifica talmente sbilanciata verso il primo posto da non lasciare niente per nessuno è un'armatura secondo me quella d'Oleone molto classica è poco zodiacale nel senso che si riconosce poco il simbolo d'Oleone ma è un'armatura molto elegante quasi da vero cavaliere medioevale al netto di qualche ghirigoro di troppo è un tipo di corazza che non mi sarebbe sorpreso vedere in qualche museo come armatura di qualche re magari non armatura da guerra ma almeno armatura da torneo è un totem molto bello ne ho parlato poco finora ma anche i totem ovviamente incidono nell'aspetto delle corazze ed è sicuramente uno dei totem più simbolici e iconici della serie fatto sta che almeno in questa classifica Ioria ha strationfato l'armatura dell'eone si è posizionata al primo posto se guardiamo un po' il grafico generale qui ci sono un po' tutte le posizioni si vede come spicca questa con altissima di 67 voti per il primo posto di Ioria che supera persino quella di 64 voti per l'ultimo posto del Toro il povero Aldebaran fa da contrattare a Ioria in questa sfida in questo grafico per il resto è stato un sondaggio un torneo tutto sommato abbastanza bilanciato con qualche picco sopra i 40 punti qui e lì la maggior parte delle armature che raramente ha superato i 30 voti eccezione fatta appunto per il primo posto di Ioria e l'ultimo posto del Toro anche andando a scorrere un pochettino l'elenco dei voti si vedono votazioni preferenze abbastanza miste non ho notato particolari segni di Broglie a questo giro forse perché su armature d'oro c'è meno prosevitismo e fanatismo rispetto a cavaliere d'oro più forte ma ecco ci sono voti abbastanza bilanciati in tutte le posizioni e niente ecco quindi questi sono i risultati del sondaggio sulla vostra armatura d'oro preferita cosa ne pensate voi che scrivete qui nei commenti avete partecipato condividete questi risultati scrivetelo come sempre qua sotto perché da me anche stavolta è tutto alla prossima ciao